Se va tutto bene, perché adesso io non ho il telefono, devo arrivare a casa domani. Sì, 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 no, stanotte gliela metto. L'indirizzo me. Stasera ti goccia a te che vi dico? Sì, esatto, grazie. Però non mi va là. Grazie. 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 Buongiorno agli amici di Franco. Siamo qua a San Martino in Rio dove gioca il Cardi che ospita oggi la prima in classifica è il Genoa che sta facendo un campionato veramente ottimo. La squadra l'avevamo vista al torneo Memorial Casiraghi, aveva subito fatto un'ottima impressione questo Genoa, le aveva perse tutte e due sia con l'Inter che con l'Underlecht, però aveva messo in mostra una potenzialità veramente importante per questa categoria e in effetti non ci ha smentito che adesso si trova primo in classifica nel suo girone. Purtroppo non abbiamo segnale, non vi possiamo mandare la partita in streaming, noi ci dispiace, non abbiamo neanche la grafica, però confidiamo di caricarla successivamente, sempre sul nostro canale, su YouTube. Adesso c'è un bellissimo lancio in avanti, non riesce l'aggancio ma si era smarcato bene il giocatore del capi, andare a raccogliere questo lungo lancio dal centrocampo, aveva tagliato bene dentro l'aria, però non ci arriva ad agganciare questo pallone che non era facile. Pardo a seguire, bravo! Notte, sparate! Notte! Blocko! Corremo! Corremo! Passo! Grazie. Grazie. C'è stato un bel tiro potente da fuori aria, però intercettato da un difensore del Genoa, quindi un capi già aggressivo. Grazie. Grazie. Adesso c'è un corridoio sulla sinistra del Carpi, entra in aria, viene un po' sbilanciato il momento sulla corsa, una leggera spinta, però tanto da sbilanciare il giocatore e cadere, anche in questi casi bisogna interpretare queste azioni in aria. L'arbitro non ha giudicato, non ha ritenuto fallo da rigore, però la spinta c'è stata, il giocatore è caduto. Grazie. 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 Adesso c'è il pasticcio fra due giocatori del Genoa nel tentativo di passare al portiere da centrocampo il pallone si è trovato comunque niente di nulla di fatto Grazie 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 Torni, torni, vieni, gira l'altro il gioco. Dai a voi, dai a voi. Gira, si. Ok, venga. Adesso, vediamo che ce la muoviamo. Vai, vai. Vai, vai. Devi accorciare prima, bisogna leggerla. Bisogna. Ti metto male. Dai, dai, dai. Vai aiutare. Attivate, fettac, diamo. Vai, fettac, premia. Vai, fettac. Dai, dai, fette. Guarda, guarda. Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie 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 a tutti. a tutti. a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. 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 dai. dai. a tutti. 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 a tutti. 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 a tutti. 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 a tutti. 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 . tutti. 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 . . . . tutti. . 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